l'instruzione di Torino, lui è il mio guerriero, ciao guerriero niente che è qui per altre cose no, 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 assolutamente appoggiatevi solo alle pareti che ho contacare ciao, chi sei tu? Giusy Giusy? si lavori qua al Feltrinelli Feltrinelli, Feltrinelli e tu bambino come ti chiami? Paolo bella suoneria, ti ami Fabio B no no abietto si è finito di fare la spesa? ok, pronto ok ok volete 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 Grazie a tutti.